Giordano Bruno Genova, Milano, Torino, Ginevra, Parigi, Londra, Praga per poi finire a Venezia dove nel 1592 era stato arrestato per essere poi tradotto a Roma, processato dall'inquisizione e al fine messo a morte nei modi di cui ho appena detto ma Bruno non fu solo questo, fu un grande filosofo e autore di alcuni testi letterari molto molto importanti spaccio della bestia trionfante e il candelaio tra tutti gli altri Giordano Bruno parliamo oggi con il professor Lucio Villari con i tre giovani storici Francesca Fanelli, Mario Sanseverino, Martina Antonini professore, Giordano Bruno non fu l'unico bruciato, ucciso perché è diventato così celebre, perché è così importante perché il suo nome risuona molto più di quello di altri uccisi perché il suo pensiero è andato oltre la sua morte ed è attuale anche adesso paradossalmente la chiesa che lo ha condannato oggi accetta quasi tutti i principi filosofici di Giordano Bruno e così la scienza moderna cioè starei per dire paradossalmente è stato ucciso perché era in anticipo di 400 anni o di 300 anni sul sviluppo della filosofia mi dica due o tre cose su cui Bruno era in anticipo la complessità del pensiero filosofico di Bruno nasce anche dal tempo in cui questo pensiero è maturato perché Bruno viene, diciamo, dopo la scoperta di alcuni principi filosofici e scientifici che sono alla base del pensiero moderno del pensiero inteso nel senso più complessivo possibile come ho detto all'inizio Giordano Bruno ha viaggiato in tutta Europa è andato in tutte le principali città europee ha colto, ha mangiato poi, ed è questo l'inizio del nostro primo capitolo è tornato in Italia dove è stato sospettato di eresia e minacciato dall'inquisizione la sua testa agosto 1591 dopo oltre 15 anni vissuti da esule Giordano Bruno rientra in Italia sulla sua testa grava una scomunica e la minaccia dell'inquisizione è sospettato di eresia il suo pensiero mette in dubbio alcuni dogmi della Chiesa la sua filosofia però suscita l'interesse di pensatori e sovrani europei soprattutto Enrico III, re di Francia che lo proteggono e lo accolgono nell'universo esiste una profonda unità è impensabile credere che ogni parte non corrisponda al tutto in una suprema armonia la natura è viva e vivificata dal soffio divino lo scopo dell'uomo è di tentare di armonizzarsi col tutto il nobile veneziano Giovanni Mocenigo è entusiasta delle dottrine di Giordano Bruno in particolare quelle sulla memoria vuole apprenderle invita il filosofo e ne diventa allievo dopo pochi mesi però non è soddisfatto degli insegnamenti del maestro crede che Bruno non voglia condividere con lui le sue conoscenze che nasconda segreti il filosofo è infastidito tenta di liberarsi da una situazione ormai sgradevole vuole tornare a Francoforte ma il nobile veneziano si offende e fa di tutto per trattenerlo lo tiene prigioniero Bruno però non si piega Mocenigo allora lo denuncia all'inquisizione esiste peccato più grave del tradimento degli amici le accuse di Mocenigo sono vaghe senza prove e soprattutto il tribunale non si accontenta di un solo testimone Bruno sa come affrontare i giudici la sua linea difensiva si rivela efficace il processo sembra avviarsi verso una possibile assoluzione ma dopo circa nove mesi giunge una richiesta dell'inquisizione romana il detenuto deve essere trasferito il processo deve essere celebrato a Roma è una richiesta di estradizione il senato veneziano è molto attento alla sua autonomia giudiziaria e respinge la domanda da Roma però insistono viene sollecitato un approfondimento del caso e alla fine l'accusa di eresia viene confermata Giordano Bruno entra nelle carceri romane del Sant'Uffizio è il 27 febbraio del 1593 allora Giordano Bruno è rientrato in Italia a Padova per l'esattezza poi a Venezia sì ma noi Venezia è la parte conclusiva certo poi a Venezia litigherà con Mocenigo esprimerà il desiderio di riandarsene a Francoforte ma il primo punto che voglio chiarire lo voglio chiarire con voi tre è perché decide di tornare in Italia perché decide di riavvicinarsi stava così bene a girare per tutta Europa di riavvicinarsi a quelli che poi l'avrebbero condannata a morte sia pure per gradi questo riavvicinamento Francesca Fanelli una delle ipotesi più accreditate è che Giordano Bruno aveva tanti progetti non torna in Italia da vinto ma aveva delle aspirazioni stava anche approfondendo degli studi sull'astronomia giudiziaria e soprattutto voleva una cattedra voleva come si diceva una lettura e in quel periodo nell'università di Padova era libera la cattedra di matematica però in quegli anni in cui lui rise da Padova riesce a fare solo delle lezioni ad alcuni studenti ma non ebbe successo e quella cattedra poi la ebbe Galileo Galilei ecco appunto Mario Sanseverino sentiamo le loro tre risposte poi lei sceglierà sì sì no perché è importante Sanseverino Bruno era convinto anche di poter puntare in alto di poter puntare al pontefice convincendo Clemente VIII della propria abilità e convincendolo in particolar modo sia dedicandogli un'opera letteraria ma anche utilizzando quell'arte di convincimento che lui aveva teorizzato nel De Vinculis perché voleva attuare una riforma del cattolicesimo ma non da eretico interno al cattolicesimo stesso ecco dico subito che quell'arte di convincimento lui l'aveva usato come sovrani da prodotto in Europa sentiamo brevemente Martino Antonini poi a lei professore sì un'altra ipotesi importante a mio avviso è quella dell'iconologa Frances Yates secondo cui Bruno ritorna in Italia perché lui non si considera un anticlericale ma si considera un grande riformista quindi entra in Italia sicuro della sua figura appunto per la grande risoluzione che aveva avuto in Europa dunque allora facciamo un po' ordine un certo quadro della situazione ma sulla base di quello che loro hanno detto è vero lui voleva entrare in Italia un'ulteriore tappa del suo diciamo percorso europeo di studioso di filosofo apprezzatissimo in varie università straniere eccetera quindi l'opportunità che forse gli si dava di venire a insegnare a Padova lui pensava di doverla cogliere aveva volo quindi la tappa di Venezia è una tappa di quello che doveva essere il suo passaggio poi all'università di Padova ma qui scatta un po' il problema della quindi lui non immagina no assolutamente che si sta avvicinando al fuoco che lo brucerà assolutamente però esisteva un contrasto filosofico non teologico perché Giordano Bruno ci teneva a non occuparsi di teologia ma di filosofia e in questo ambito soltanto potevano entrare questioni teologiche allora lui avere già in contrasto non solo con la chiesa cattolica ufficiale ma entrò in contrasto pure con la chiesa protestante quando era all'estero fu scomunicato dai protestanti questo è bene dirlo prima della scomunica è bene anche ricordare che all'epoca anche i protestanti di Ginevra anche loro bruciavano bruciavano si bruciavano gli eretici si bruciavano gli eretici diventò obiettivo delle sue critiche perché Calvino più di Lutero aveva degli schematismi dogmatici che contrastavano con la visione libera e aperta della filosofia che aveva Bruno allora partendo no professore insisto avvicinarsi a Roma anche se certo Venezia non è Roma e significa avvicinarsi a un posto dove lui non sarà il primo a essere ucciso per ordine dell'inquisizione quindi uno rischia ma c'era un rischio certamente ma non di morte per rogo come poi avverrà il rischio di un conflitto perché Giordano Bruno opera culturalmente e intellettualmente nell'età della controriforma quando lui è nato il concilio di Trento era ancora aperto cioè c'era un clima certo non favorevole alla libertà di pensiero all'interno della chiesa ma come diceva pure lui c'era uno spirito religioso in lui autentico che gli permetteva di esprimersi anche in termini sarei per dire assolutamente devozionali nei confronti dell'immagine di Dio eccetera solo che filosoficamente il problema della trascendenza e dell'unicità della vita e della natura umana insomma era da lui contestato sulla base della visione estremamente universale della struttura del mondo ecco questo bisogna dirlo chiarissimo entriamo allora adesso nel secondo capitolo della nostra storia che è quella che riguarda la prima fase del processo romano e l'accusa di eresia qui c'è ed è piena le accuse formulate da Mocenigo contro Giordano Bruno sono molte le più gravi avere pensieri eretici sulla Trinità sul Cristo sulla Madonna credere nella trasmigrazione dell'anima e nella molteplicità dei mondi il tutto è una sfera anche Dio può essere così rappresentato il centro di questa sfera è ovunque la circonferenza non si trova in nessun luogo e la nostra terra è viva durante il processo romano all'elenco delle accuse se ne aggiungono altre vengono mosse da un compagno di cella del carcere veneziano il frate Capuccino Celestino da Verona Celestino descrive il filosofo come un uomo falso che formalmente si proclama pentito dei suoi errori ma in realtà si prende gioco dei giudici e della religione un bestemmiatore che ridicolizza i santi e indulge nel peccato della carne la denuncia di Celestino ha conseguenze gravi invalida la difesa di Bruno che poggia sull'esistenza di un solo testimone a suo carico e la situazione si complica ulteriormente nel momento in cui vengono ascoltate anche le testimonianze degli altri compagni di Cella è incredibile come gli uomini facciano fatica a liberarsi dalle diatribe religiose dai finti misticismi moralismi odi è come se continuamente ascoltassero una voce maligna che li allontana dal proprio bene l'armonia è nel tutto ma per giungere all'armonia occorre un salto di coscienza alla fine i capi d'accusa sono 31 e in sostanza Giordano Bruno viene incolpato di essere un uomo senza religione vengono contestate le sue opinioni filosofiche così come le sue credenze le accuse però provengono tutte da testimoni inaffidabili Mocenigo è spinto dal risentimento Celestino attacca perché ha paura di poter essere denunciato anche lui l'unica prova contro Giordano Bruno potrebbe essere nelle sue opere Papa Clemente VIII ordina che vengano trovate tutte una ricerca che si rivela più complicata del previsto il processo si ferma per due anni Mario Sanseverino ma chi è questo Celestino di cui abbiamo sentito parlare in questa fase del processo Giordano Bruno Celestino da Verona era un frate cappuccino era già caduto una prima volta nelle mani dell'inquisizione ed era stato costretto ad abbiurare dei vehementi quindi anche una abbiura pericolosa successivamente lui nel 92 cade come relapso di nuovo nel carcere inquisitoriale questa volta di Venezia che vuol dire relapso relapso significa che nuovamente era caduto nel peccato di eresia quindi in questo momento lui rischiava molto grosso rischiava anche la condanna a morte quindi per lui scaricarsi contro Giordano Bruno è un modo anche di alleviare era una sorta di tutela che lui provava a esercitare ma nello stesso tempo in lui c'era un'indole paranoica perché credeva che Bruno volessi accusarlo e quindi lui iniziò ad accusarlo per primo quindi è un caso dentro il caso va precisato questo che diceva Severino questo Celestino da Verona era considerato eretico ma era un mediocre una mediocre figura di uomo di chiesa che aveva fatto qualche errore eccetera il problema è che Giordano Bruno il Celestino fu compagno di cella di Giordano Bruno e cercava di parlare con Giordano Bruno di questioni filosofiche ma Giordano Bruno che aveva un temperamento diciamo abbastanza vivace lo riteneva un imbecille qualcuno non era il caso di rivolgere la parola lo riteneva un somaro eccetera questa cosa colpì molto questo Celestino l'offese e si vendicò inventando delle presunte eresie banalissime di Giordano Bruno che furono poi prese in considerazione dal Tribunale dell'Inquisizione per esempio Giordano Bruno criticava questo culto il culto dei Santi criticava il culto delle reliquie criticava il mito della verginità della Madonna ma lo faceva in modo filosofico diciamo cercando di dare un'interpretazione a una religione che non doveva stare appresso a queste minuzie secondo il suo pensiero Celestino prese spunto da queste cose e da altre cose che lui diceva per accrescere diciamo la responsabilità religiosa e non filosofica ma religiosa di Bruno e quindi dare un'arma in più agli inquisitori ma questo Celestino era veramente un figura di scarsa al punto tale che posso dire un anno prima che fosse messa al robo il gelato di Bruno fu bruciato vivo anche lui a Campo dei Fiori nel 99 questo me lo rende più simpatico però è geniale l'inquisizione con tutto il rispetto per questa vicenda perché ha inventato quella tecnica che esiste ancora nei giorni nostri di mettere un tipo magari mediocre come Celestino per fare la spia metterlo con il boss della camorra o della mafia il quale il boss della camorra un po' perde la pazienza un po' lo ignora poi sa la solitudine produce ma guardi che l'inquisizione romana inizialmente non era contro Giordano Bruno cioè propensa a condannarlo perché riteneva che i punti veramente e allora se ho capito ma allora cosa è decisivo perché se non lo era no è appunto perché Giordano Bruno era pronto anche ad abbiorare alcune come aveva fatto a Venezia è benissimo e allora dov'è che decide la svolta ecco in punto però lui era un po' diciamo condizionato dall'immagine e dalle funzioni del Papa di allora di Clemento VIII il quale ci teneva ad avere uno scontro filosofico con Giordano Bruno e convince i giudici a recuperare tutte le opere di Giordano Bruno quindi le questioni che poneva Celestino da Verona il Papa le considerava delle sciocchezze Martino Antonini sì quello che è evidente è anche il fatto che il processo Giordano Bruno è stato un processo molto importante uno dei processi che si attuano dopo la controriforma quindi era importante per la Chiesa che aveva visto il suo ruolo cambiare fare un'indagine molto più attenta e più capillare infatti si ricercano tutti i libri di Giordano Bruno si studiano e nonostante però le accuse siano complete non si attua subito la condanna infatti verrà appunto condannata a roco solo nel 1600 in realtà le accuse erano già pronte ma è come se si voglia fare un po' passare in sordina la figura di Giordano Bruno che all'epoca aveva tanti tante persone appunto chiarissimo infatti io guardi io sto questo passaggio conclusivo perché ha perfettamente ragione Martina Antonini la configurazione delle accuse avviene molto tempo prima e che succede in quel tempo che passa fra la configurazione delle accuse e l'uccisione di Giordano Bruno intanto passa un tempo lunghissimo sono circa otto anni perché il processo Giordano Bruno ha delle fasi diverse c'è la fase veneziana e poi la fase romana ma la fase romana è attraversata pure da due fasi particolari la prima è un tentativo di discutere con Giordano Bruno la seconda si arriva allo scontro alto condotto da parte dell'inquisizione da Roberto Bellarmino che era un gesuita colto un filosofo diciamo cattolico che viene fatto cardinale dalla chiesa proprio un anno prima della condanna di Giordano Bruno ed è in quel momento secondo lei che si decide la morte quando viene fatto cardinale Bellarmino e sì perché lo scontro diventa adesso fra un principe della chiesa come Roberto Bellarmino e un principe della filosofia come Giordano Bruno allora entriamo nel terzo capitolo nella nostra storia che è quella che il professor Villari ha denominato la seconda fase del processo romano quella che porta appunto alla condanna a morte del 1600 aprile 1596 viene creata una commissione che ha il compito di esaminare le opere del filosofo l'elenco dei libri non è completo ma i giudici lo ritengono sufficiente e alla fine dello stesso anno vengono presentate le censure due mesi più tardi si aggiunge ai membri della commissione il gesuita Roberto Bellarmino uno dei più rinomati teologi del tempo avrà un ruolo fondamentale nelle ultime fasi del processo l'attenzione del tribunale si concentra sulle accuse di materia strettamente filosofica Bruno difende le sue dottrine così come aveva fatto con il tribunale veneziano distingue la verità di fede dalla verità di ragione ma non convince i giudici l'accusa considera eretiche le sue posizioni filosofiche il tribunale sottopone a Bruno otto proposizioni ereticali estratte dagli interrogatori e dai libri affinché le abbiuri formalmente l'accusato cede e ritratta ma con una formula che non soddisfa la commissione i giudici si dividono sulla valutazione del caso alcuni insistono per una ritrattazione completa altri propongono la tortura per ottenere la piena evidenza della colpevolezza lo scopo è ottenere una biura completa che salverebbe Bruno dalla condanna a morte per i giudici significerebbe la vittoria della fede ma anche un atto di sottomissione da parte dell'accusato all'autorità e ai teologi del santo uffizio settembre 1599 Giordano Bruno firma la biura ma contemporaneamente presenta un memoriale a Clemente VIII nel quale mette in discussione tutte le sue ritrattazioni questa volta il filosofo non torna indietro Clemente VIII ordina la conclusione del processo e la consegna dell'imputato al braccio secolare 8 febbraio 1600 la sentenza viene letta al condannato forse con maggiore timore pronunziate contro di me la sentenza di quanto non ne provi io ne ricevo la 17 febbraio Giordano Bruno viene condotto in campo dei fiori spogliato legato ad un pano e poi dato alle fiamme professore mi sembra però una condotta processuale un po' farraginosa nel senso aspetti prima si dicare disponibile la ritrattazione poi fa quello che non si dovrebbe mai fare scavalca i suoi giudici si rivolge direttamente al papa per sfidare quasi il papa oppure per coinvolgere non si capisce bene a quel punto la sua sorte è segnata perché se uno si comporta così questo è il punto decisivo del nostro discorso e della nostra ricostruzione lui accetta alla fine le contestazioni del cardinale Bellarvino e fa e ritratta alcuni punti del suo pensiero filosofico che è molto complesso non è una cosa semplice ritratta e accetta le contestazioni del cardinale contemporaneamente siccome Giardino ha una forte personalità questo bisogna sempre ricordarlo è una forte una forte coscienza di sé e del suo pensiero dice a Bellarmino levati di parte io mi ricordo io accetto la condanna e abbiuro diciamo ritratto alcune cose però voglio che il papa sia informato del mio pensiero perché il papa aveva dato ordine appunto di raccogliere i suoi scritti e allora scrivendo al papa e quindi come lei diceva scavalcando il tribunale lui manda un memoriale al papa in cui dice sì io accetto ritratto su alcune cose però ribadisco a vostra sentita che io i miei principi sono questi uno due tre quattro cioè ribadisce il suo pensiero allora il papa capisce che quest'uomo è irriducibile cioè che il pensiero e la coscienza di quest'uomo non possono essere controllati più dalla chiesa e quindi scatta la sentenza definitiva di affidare la figura e la persona di Giordano Bruno al braccio secolare scusi resto al punto il papa chiama Berlannino lo nomina cardinale lo incarica di occuparsi del caso Bruno e Bruno la mette in questione come ricordava Sanseverino in modo tale da non essere obbligato a bruciarlo vivo a quel punto del processo e Bruno lo scavalca dice no io voglio parlare misurarmi direttamente col papa probabilmente nella consapevolezza che su alcune tesi avrà torto se Clemente VIII fosse l'attuale Papa Francesco avrebbe chiamato presso il Vaticano Giordano Bruno e avrebbero discusso le cose ma allora non era pensabile ma il cardinale Berlannino si sarebbe arrabbiato il papa il papa ha pensato che la chiesa aveva di fronte dopo aver avuto lo scisma di Martì Lutera aveva di fronte uno scisma che questa volta comunque il rappresentante di un possibile scisma che questa volta scaturiva dall'interno della filosofia non è poco della chiesa e quindi era una cosa molto più grave la rogna di Martino Lutero Calvino tutto quel popò che si era messo in moto a metà del Cinquecento secondo Giordano Bruno il papa doveva accettare di mettersi a discutere da pari a pari con lui e così pensava Giordano Bruno perché Giordano Bruno era abituato a trattare anche con il re è certo anche in Francia in Inghilterra è vero che veniva considerato anche una spia un mago che c'erano aspetta Francesca Fanelli era un mago? no no magia no scusi no su questo punto della magia bisogna capire sentiamo la Fanelli perché lei ha studiato proprio la questione della magia l'accusa che gli viene rivolta è quella di essere un mago però dobbiamo precisare cosa Bruno intendesse appunto cosa intendeva lui stesso dice che essere mago non è qualsiasi scellerato balordo che si metta a patteggiare con il diavolo per giovare o danneggiare qualcuno ebbè è un significato più nobile preso dai suoi studi di logica e da Aristotele in particolare quinto libro dei topici il mago è il sapiente dotato della capacità di agire secondo i dettami della magia matematica o magia naturale quindi ecco sì noi ha ragione la parola magia noi la usiamo in un altro significato ma allora era la scienza di quel tempo come la cosiddetta tradizione ermetica noi immaginiamo che sia qualcosa di diciamo di misterioso no la tradizione ermetica nasce da una tradizione di una filosofia classica che veniva attribuita al pensiero di Ermete Trismegisto un pensatore egizio eccetera che gettava le premesse del pensiero moderno cioè la magia è lo studio dei misteri e dei segreti della natura e quindi è logica molto chiaro certo accettare di definirsi mago è la seconda cosa che lo metti in una zona pericolosa ma la magia di Giordano Bruno ho capito che la magia è una cosa diversa molto più nobile però no ma lui stesso diffondeva il pensiero magico come un pensiero stimolante della ricerca scientifica tra virgolette che non può essere allora mi è chiarissimo e allora ascoltiamo come Giordano Bruno viene considerato invece adesso dalla chiesa contemporanea lo ascoltiamo dalle parole del teologo Monsignor Canciani lui è il teologo esoterico però contemporaneamente è l'avventuriero è l'uomo di scienza è l'uomo anche che parla della magia ma della magia concepita nel senso giusto quella di cui nei libri di Platone e poi ecco abbiamo questo fatto fondamentale che lui era in anticipo io penso di 400 anni rispetto al suo tempo Teilhard de Chardin diceva che le verità dette in anticipo sono già delle eresie insomma perché la gente non è pronta a recepirla e se uno volesse dividere la personalità di Giordano Bruno la parte diciamo così religiosa perché lui era un dominicano che poi ha abbandonato l'ordine ma che aveva comunque una fede profonda anche se a modo suo e lo scienziato dobbiamo dire per esempio che come scienziato lui ha anticipato alcune cose che poi sono state dette in seguito quindi anticipando anche Galileo Galilei che diversi anni più tardi rivelerà questa sua dottrina poi dal punto di vista religioso invece lui aveva questo senso quasi cosmico della divinità e diceva quello che ha detto recentemente il Papa Giovanni Paolo II e cioè che in ogni cosa in ogni essere vivente c'è lo spirito di Dio caspita che considerazione che ha la Chiesa Martina Antonini si può parlare di una riabilitazione di Bruno da parte della Chiesa? No Giordano Bruno è stato di nuovo condannato se possiamo dirlo da Ratzinger e poi successivamente Giovanni Paolo II ha rotto quello che era il silenzio su Giordano Bruno ma assolutamente non c'è stata una volontà di riabilitazione perché come abbiamo detto prima quello che rappresenta Giordano Bruno in realtà è proprio la sfida nei confronti del papato del resto quando abbiamo fatto l'unità d'Italia dopo la presa di Roma uno dei momenti più drammatici dei rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa fu Francesca Fanelli quando lo Stato italiano decise di mettere un monumento che c'è ancora a Campo dei Fiori non nel posto esatto in cui fu eseguita la condanna a morte di Bruno però in quel momento c'è un litigio fra la Chiesa e lo Stato italiano inizialmente fu un'iniziativa di due comitati studenteschi internazionali che raccolsero i fondi per erigere questa statua ma non fu una cosa semplice è vero che erano massonici? la Chiesa sostiene che erano la manazione della massoneria erano massonici professore? no ma il problema era no aspetta il problema poi lo affrontiamo dopo ma lo faccio finire un secondo dalla massoneria sì c'entrava c'entrava una parte sì però in realtà la cosa importante è che divise l'Italia tra ancora quella parte clericale filoclericale e quella parte invece liberale del nuovo Stato italiano ci vollero ben 13 anni prima che questa statua fosse eretta e fu una festa nazionale quel giorno perché sotto il governo di Crispi si decise di inaugurare questa statua che tutti possono vedere al campo dei fiori e si vede questo Giordano Bruno con un cappuccio che nasconde quasi il suo viso poi nei lati del basamento si vede il Giordano Bruno che tiene lezioni in varie università straniere eccetera quindi il pensiero vivo di Giordano Bruno ma questo cappuccio fa pensare questa ombra di Giordano Bruno fa pensare la prima opera veramente importante che uno scrisse che pubblicò a Parigi nel 1584 De Umbris Idearum è vero che ha questa epitaffia all'inizio Umbra profunda su un osso noi siamo noi uomini siamo un'ombra profonda che aspira verso la luce che aspira la luce divina cioè c'era una visione anche mistica ma la visione dell'ombra fa pensare alla complessità diciamo dell'animo umano e della coscienza umana di fronte ai problemi della natura e di fronte ai problemi anche della religione e della fede allora cosa resta 420 anni dopo quel rogo a campo dei fiori di Giordano Bruno secondo lei ma resta allora quel monumento sembra un monumento alla libertà di pensiero alla libertà di coscienza e quella era la chiesa di Pio IX era la chiesa del sillabo però allora oggi una chiesa di oggi ma in un certo senso il monsignor Canciani mi pare che abbia smentito dicendo che dicendo che Giordano Bruno ha anticipato di 400 anni il pensiero moderno anche della chiesa il fatto che il Giovanni Paolo II non ha riabilitato ufficialmente e questo è un punto un po' oscuro del pensiero Giovanni Paolo II ha riabilitato tutti ha riabilitato tutti ma per esempio non ha riabilitato l'illuminismo 700 francese europeo c'è una parentela fra Bruno e l'illuminismo certo perché rientra nel filone diciamo di quella cultura della crisi di quella cultura esistenziale moderna che ha le basi nel pensiero filosofico del rinascimento e si sviluppa lungo il 700 fino ai nostri giorni Mario Sanseverino sì proprio in merito all'illuminismo e Bruno all'interno dell'ensiclopedia di Derod dedica una voce bellissima su Giordano Bruno è forse la prima che rivaluta la figura di Giordano Bruno che precedentemente era visto solo come un filosofo diciamo mediocre ma forse per la scarsa conoscenza delle sue opere che non erano facili da trovare e quindi da Didero in poi noi vedremo anche un'attenzione dedicata a Bruno a livello filosofico vedendolo anche come precursore della filosofia moderna di Cartesio sì mi pare che l'abbia detto bene cioè se questo rapporto che noi oggi abbiamo con Giordano Bruno non è un rapporto che diciamo necessario ma se c'è è un rapporto con una personalità importante del rinascimento italiano una personalità della cultura moderna italiana direi una gloria della nostra storia che noi dovremmo ma lei non metterebbe fra i 5-10 italiani più importanti di quel periodo storico guardi che Bruno Telesio Campanella Galilei sono all'origine del pensiero moderno e sono tutti sulla stessa scia diciamo di critica della realtà analisi della natura analisi del mondo spero che molti nostri ascoltatori le diano retta e anche sui suoi suggerimenti bibliografici vadano a riscoprire Giordano Bruno ah guardi i libri ce ne sono moltissimi ma io suggerirei intanto gli atti del processo a Giordano Bruno che sono stati raccolti da Luigi Firpo sì in un volume di qualche anno fa poi c'è questo saggio di Michele Ciliberto che è uno studioso di pensiero di Giordano Bruno poi c'è un saggio appunto a proposito di quello che diceva del pensiero magico un saggio di una grande studiosa inglese Francesi Eitz su Giordano Bruno e la tradizione ermetica cioè un primo studio fatto pochi anni pochi decenni fa a livello internazionale su un rapporto che ha provocato molte polemiche sì che poco è certo i cultori ortodossi di Bruno hanno contestato questo saggio però sono d'accordo con lei merita merita attenzione perché affronta il problema del pensiero magico di quel tempo ma ci sono stati poi studi anche di studiosi importanti su questo punto specifico da Eugenio Garen e Paola Zambelli insomma tanti altri studiosi hanno visto nel pensiero magico elementi positivi della scienza moderna grazie al professor Lucio Villari anche per i libri particolari che ci ha consigliato e poi il film è anche di Giuliano Montanto che andrebbe visto grazie anche a Francesca Fanelli a Mario Sanseverino a Martina Antonini e passiamo alle conclusioni Lucio Villari ci ha detto tutto dell'importanza di quell'uomo venuto da Nola Giordano Bruno bruciato nel 1600 bruciato vivo ma c'era stato prima di lui un altro uomo venuto da Nola Pomponio de Algerio era nato nel 1531 e anche lui con delle strane coincidenze con la storia di Giordano Bruno era stato arrestato a Venezia Venezia aveva concesso l'estradizione e poi portato davanti all'inquisizione romana era appena diventato Papa con il nome di Paolo IV Giampiero Carafa un grandissimo inquisitore e si procedette per le spicce nel senso che Pomponio de Algerio fu messo in una caldaia di olio bollente pece trementina e trovò la morte in quello stesso 1556 poi anni dopo la sua storia si è di nuovo legata a quella di Giordano Bruno perché l'università di Padova ha voluto riconoscergli di essere un uomo di scienza di essere stato un uomo molto molto importante per la seconda metà del 500 mettendo una targa all'ingresso dell'università era l'anno 2008 che a